Sbarcato a Bari, il bielorusso Kutuzov, il colpo migliore del Bari al mercato di gennaio. Vediamo. Uno sguardo che non lascia intravedere emozioni e la sicurezza di un calciatore che sette anni fa impressionò anche Terim quando il Milan affrontò in Coppa il Beteborizov. Il migliore tra i bielorussi fu proprio lui, la squadra rosso-nera lo voglia a tutti i costi e da lì iniziò l'avventura italiana di Vitaly Kutuzov, da oggi ufficialmente attaccante del Bari. Sappiamo quanto l'abbia voluto il Bari, ma lei quanta voglia aveva di venire qui nel capoluogo pugliese? Tanta, perché visto che è la squadra che gioca bene, con le cose che mi piace molto, stai sopra in classifica, c'è perspettiva importante. Prelevato dal Parma, in comproprietà l'attaccante classe 80 ha conosciuto oggi nuovi compagni di squadra. Non si lascia andare davanti alle telecamere, ma la sua laconicità non nasconde la soddisfazione di indossare la maglia del Bari, squadra candidata alla promozione nella massima serie. Ha dato un'occhiata alla classifica? Secondi, il Bari è secondo, so benissimo. Si gioca bene e soprattutto gioca, che in calcio in questi momenti è una cosa che era rara, diciamo, perché le poche squadre che giocano benissimo, e tanti cercano risultato a tutti i modi, però il gioco di calcio è andato un po' indietro, tutti vanno indietro il risultato. Vestirà la maglia numero 20 Kutuzov, che si metterà subito a disposizione della squadra, proprio come gli ha chiesto Antonio Conte. E non importa se da primo o da seconda punta, né gli interessa il nome del suo compagno di reparto, una cosa è certa, Kutuzov ha bisogno del calore dei baresi. Per la seconda volta al sud, il tempo però non è stato molto clemente. Dopo il Parma, perché il Parma è un po' sempre freddo, c'è un po' di pioggia in questi periodi. Spero che c'è il sole, il sole soprattutto in campo, diciamo. Il calore dei tifosi soprattutto. Anche, spero di aiuto anche loro.